Negli ultimi cinque anni, tra Panecci e Sciacca, non ci sono telefonate. Come se non si conoscessero. Ma chi invita 72 sconosciuti alle proprie nozze? Nessuno, dottor. Già troppi ce ne stanno diconosciuti. Non so, sto facendo la lista pure io, non so. E allora c'è una sola possibilità. Si conoscono, ma anziché il telefono, usano altri sistemi. Quali? In... come... come... Pizzi! Eh. Esatto! Brava imparato. Gli Sciacca sono i mafiosi che portano i soldi sporchi. In un colpo solo possiamo arrestare a Panecci e la famiglia che ha preso il posto dei Corleonesi nell'inchiesta del secolo. Dottore, telefonata anonima. Dice che c'ha una soffiata sul caso, ma vuole parlare solo con lei. Sono Di Caio. Ciao caro, sono Giada. Scusa il trucco, ma volevo invitarti a cena e mi dicevano sempre... È in riunione. Va che è sto silenzio? Ha già l'impegno? No, 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 cioè io avrei... avrei un'inchiestina, ma non è importante, ma... Ehm... mi libero. Ok, passo in procura tra mezz'ora. Fatti carino. Sì, sì. Ho una sorpresa per te. Ciao. Eh? Che avete da guardare? Beh, io adesso andrei. Ho una sorpresa per te.